L'Assemblea di Avis di oggi è un esercizio vero di democrazia, importante ricordarlo quando si è piatta una guerra in Europa che proprio mette in discussione la democrazia, che è qualcosa di importante, che va costruita giorno per giorno con partecipazione e responsabilità. L'altro tema importante è quello di ricordare che sono dieci anni dal sisma che ha colpito l'Emilia, soprattutto la provincia di Modena e voglio ricordare e ringraziare tutti quei volontari dell'Avis che subito dopo si sono tirati sulle maniche, hanno ricostruito assieme ai comuni e alla regione e hanno permesso oggi di continuare ad avere queste sedi decentrate che non sono solo un momento di raccolta del dono del sangue, e hanno soprattutto una partecipazione concreta alla vita della comunità che viene arricchita proprio da loro.